con il gelo primo ghiaccio sulla superficie del lago dendine siamo andati a vedere com'è la situazione il sindaco di spinone non si può ancora parlare di lago ghiacciato ad albino iniziati i lavori di riqualificazione della scuola media di desenzano e comenduno verrà realizzato anche il nuovo palazzetto per il quale una cordata di imprenditori ha messo a disposizione 120 mila euro 40 anni di concerti in un museo è l'idea di gigi bresciani che con la sua geomusic ha portato in bergamasca e non solo grandi nomi della musica internazionale buonasera benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di antenna 2 anzitutto la nostra notizia d'apertura lo avete appena sentito primo ghiaccio in questi giorni sulla superficie del lago dendine il gelo notturno ha iniziato in alcuni punti a solidificare l'acqua i comuni per ora aspettano l'evolversi della situazione abbiamo fatto il punto con il sindaco di spinone ci troviamo a spinone al lago con il sindaco simone scaburri in questi giorni il lago dendine ha iniziato a ghiacciare da quanto tempo la superficie ha cominciato a diventare rigida parlare di rigidità ancora presto sicuramente si iniziano a vedere appunto i primi specchi primi leggeri specchi parliamo di due o tre giorni qui almeno per quanto riguarda il lato di spinone al lago ovviamente è un qualcosa di scenografico qualcosa di affascinante ma assolutamente non si può a mio parere parlare di superficie ghiacciata né qui né sul resto del lago nella zona neanche di monasterolo perché ancora l'acqua è ben visibile Come sindaci avete intenzione di prendere qualche provvedimento? Ma noi ormai da questo sarebbe il terzo anno abbiamo deciso di non emettere un'ordinanza di vieto assoluto di accesso al lago proprio perché dopo vari pareri e vari ragionamenti ci siamo resi conto che l'ordinanza comunque non poteva essere in nessun modo applicata o perlomeno non poteva essere attivata una sorveglianza per cercare di mantenere questa ordinanza ecco perché in realtà abbiamo invece ragionato e vorremmo comunque procedere in questo senso nel caso in cui ghiacci il lago con una campagna di informazione forte sul segnalare il pericolo il forte pericolo di accesso al lago e fisicamente questo verrà fatto con la posizione di cartelli molto frequenti quindi circa ogni 25-30 metri oltre che ovviamente a una campagna stampa una campagna media in generale che possa informare di questo aspetto il lago è sicuramente affascinante, l'accesso al lago è un aspetto affascinante ma resta comunque e da sempre è rimasto pericoloso Per ora, lo ribadiamo, non ci sono le condizioni nemmeno per iniziare Assolutamente, in questo momento non ci sono le condizioni per chi ama questo fenomeno, solitamente avviene negli ultimi anni o perlomeno avvenuto tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio Ad oggi, ripeto, assolutamente il lago non è praticabile da questo punto di vista neanche per chi decide di avventurarsi non so attualmente, non ho presente di quali siano le previsioni previste per il prossimo futuro in ogni caso sicuramente chi è interessato a questi aspetti seguendo il mondo del web potrà avere notizia di un eventuale movimento di un eventuale aumento della superficie ghiacciata L'anno scorso, proprio in municipio a Spinone, c'era stato un incontro tra diverse realtà anche del soccorso ricordiamo quali erano un po' le linee di indirizzo che vi eravate dati L'incontro dell'anno scorso era nato proprio da questo spirito di non volere mettere ordinanza ma invece di voler creare un sistema per rendere in un'ipotesi possibile per rendere accessibile il lago sulla superficie ghiacciata quello che era emerso da questo incontro tra l'altro dove erano presenti i vari enti dei vigili del fuoco, la croce rossa, i sommozzatori, tutti gli enti della possibile catena del soccorso quello che era emerso è che non è possibile in nessun modo ad oggi garantire neanche un'area limitata rispetto alla possibilità di accesso al lago non è possibile nemmeno sia a livello economico che a livello di gestione ipotizzare un presidio perché vorrebbe dire ipotizzare un presidio H24 e quindi diventerebbe dispendioso e assolutamente poco consono quello che è lo spirito con cui si sta cercando di gestire il fenomeno quello che invece comunque si è rimarcato è che esiste già una catena del soccorso ben chiara che passa ovviamente da quelli che sono tutti gli enti proposti e quindi nel momento in cui la malaurata ipotesi dovesse avvenire qualche incidente ovviamente quello che sarà attivata è la classica catena del soccorso Ci spostiamo in media Valle Seriana ad Albino con l'anno nuovo è stato aperto il cantiere per la riqualificazione della scuola media di Desenzano e Comenduno verrà realizzato anche un nuovo palazzetto dello sport e ne abbiamo parlato con il sindaco Fabio Terzi In questi giorni si sta allestendo il cantiere alla scuola media di Desenzano e Comenduno finalmente partono i lavori Esattamente, l'anno nuovo ci ha consegnato l'inizio lavori qui presso le scuole medie di Desenzano e Comenduno abbiamo effettuato la consegna cantiere il 2 gennaio e in questi giorni fervono le operazioni tutte le attività di cantierizzazione della struttura Come ben abbiamo detto in più occasioni si tratta di un intervento molto importante di efficientamento energetico della scuola media di Desenzano e Comenduno con anche un adiugamento sismico Si provvederà quindi a realizzare il cappotto esterno la sostituzione di tutti gli infissi e all'interno sostituiremo tutti i bagni e realizzeremo un nuovo impianto di distribuzione del riscaldamento Interveremo anche sulla palestra che verrà completamente demolita è ricostruita a nuovo, sarà un vero nuovo palazzetto dello sport con delle tribune e con degli standard che la rendono omologabile alla categoria A2 del basket A tal proposito giova a ricordare che con il progetto del Bonus Sport una cordata di imprenditori albinesi ha prodotto un contributo liberale di oltre 120.000 euro per aiutarci a realizzare questa nuova struttura, questa nuova palestra per la squadra di basket e del Vice di Albino ma che potrà essere utilizzata anche da moltissime altre realtà sportive albinesi La fine lavori è prevista per l'autunno di quest'anno Riassumiamo i costi? Allora eravamo partiti con un quadro economico di circa 4 milioni di euro poi c'è stato un ribasso in fase di gara e siamo intorno ai 3 milioni e mezzo di euro interamente coperti da un contributo regionale abbiamo vinto un bando regionale e il resto con un contributo del GSE per il conto termico Qui accanto tra l'altro c'è il terreno dove sorgerà la nuova scuola dell'infanzia e per questo progetto a che punto siamo? Anche qui siamo a buon punto siamo in fase di approvazione del progetto definitivo e contiamo di andare a gara per la primavera sempre di quest'anno sarà la nuova scuola materna unificata andremo a dismettere le due scuole materne comunali esistenti e le sei sezioni verranno convogliate in questa nuova struttura oltre alla realizzazione della nuova direzione didattica verrà quindi a costituirsi un polo scolastico veramente di tutto rispetto con le scuole elementari le scuole medie e le scuole dell'infanzia con la direzione didattica un vero concentrato di educazione e di cultura qui a Desenzano Cambierà volto anche l'area esterna dove ci troviamo in questo momento? Sì, chiaramente si è previsto anche una rivisitazione della viabilità intanto terremo ancora aperta al traffico normale la strada a ricezione dei momenti di entrata e di uscita degli alunni ma verrà costituita una piattaforma pedonale, una vera piazzetta antistante alle medie al parcheggio con lo tale da rendere chiaramente più sicura e fruibile l'intera area, l'intera zona da parte dei ragazzi e delle famiglie Ricordiamo anche a quanto ammonta l'investimento per la scuola dell'infanzia e come è coperto Siamo intorno ai 2 milioni e mezzo di euro 2 milioni circa sono coperti anche qui con un ulteriore bando regionale per il resto gli altri circa 500 milioni euro in parte circa la metà con risorse proprie del comune e l'altra metà con risorse di un contributo privato ancora da individuare E adesso parliamo di scuola doppio open day domani a Piario apriranno le porte sia la scuola dell'infanzia sia la scuola primaria Entrambe statali si trovano in via Cadoriano a pochi passi dalla chiesa e dal municipio dalle 10.30 alle 12 genitori e insegnanti presenteranno la giornata scolastica che caratterizza la quotidianità dei bimbi Votiamo pagina in tempi di tagli e razionalizzazioni fa sicuramente notizia l'apertura di una nuova filiale da parte di una banca a Clusone entro l'anno arriverà la banca di credito cooperativo Bergamo e Valle Sì, è con molto piacere che comunichiamo che con la fine del 2019 i numeri sono in crescita questo ci conforta ci conforta molto perché abbiamo un piano di investimenti importante e i numeri del 2019 ci confortano in questa scelta non vogliamo abbandonare i territori dove operiamo oramai da più di un secolo l'Alta Val Seriana con Gandellino e Villadogna abbiamo investito nella ristrutturazione però il passo successivo è Clusone a Clusone apriamo una filiale hub che coordinerà tutta la zona dell'Alta Val Seriana in una zona molto centrale e credo che Clusone in questo momento possa crearci delle grandi opportunità su questi territori Sì, noi siamo fortemente legati legati ai territori o dalle nostre valli non nascondo che la banca oggi Bergamo e Valli nasce dai territori vallari Valle Brembana e Valle Seriana e non vogliamo assolutamente abbandonarli e qui il piano di investimenti sulle filiali ristrutturazione delle filiali realizzazione dello sportello 818 che 818 sta per apertura dalle 8 del mattino fino alle 18 di sera, pomeriggio e orario continuato e un servizio che oggi il mercato chiede e senza però dimenticare il radicamento al territorio e la banca tradizionale per cui ci sarà lo sportello tradizionale affiancato a quello che è lo sportello virtuale e tecnologicamente avanzato Per la nostra prima parte è tutto ci fermiamo per una pausa il telegiornale torna tra poco Riprendiamo col nostro Tg anche i soggetti deboli e i minori hanno il diritto di volare e accedere senza problemi agli aeroporti il tema è stato affrontato oggi in un convegno promosso da Sacbo la società di gestione dell'aeroporto di Bergamo in collaborazione con l'ENAC l'ente nazionale per l'aviazione civile un appuntamento che ha permesso di fare il punto sulla gestione dei passeggeri a ridotta mobilità e l'esperienza maturata nell'applicazione del protocollo autismo all'aeroporto di Bergamo ENAC è l'organismo responsabile per l'applicazione del regolamento comunitario 1107-2006 in materia di assistenza dei disabili e delle persone a ridotta mobilità nell'espletamento delle nostre funzioni e delle nostre competenze ci occupiamo della materia a 360 gradi sia direttamente nei confronti dei soggetti degli operatori che operano in questo settore attraverso una serie di iniziative quali ad esempio gli audit combinati che effettuiamo presso le società di gestione aeroportuali e giusto per dare un dato negli ultimi due anni abbiamo condotto circa 10 audit presso aeroporti italiani tra cui l'aeroporto di Bergamo che si è tra l'altro concluso brillantemente con il rientro di tutte le non conformità rilevate in occasione dell'audit quindi andiamo a fare un sopralluogo per esempio sui parcheggi per verificare la congruità e il numero degli stalli dedicati alle persone a ridotta mobilità verifichiamo tutto l'equipaggiamento quindi in termini di facilities a disposizione dei soggetti come ad esempio lo stato delle sedie a rotelle piuttosto che gli ambulift e così via e anche tutta l'attività che riguarda l'assistenza materiale quindi i servizi ad essi dedicati la sala mica che è messa a disposizione di questi soggetti per l'attesa il wayfinding quindi la segnaletica e soprattutto anche gli aspetti che riguardano la formazione che è un elemento centrale del regolamento 1107-2006 per la verifica della corretta applicazione di quello che è stabilito dall'articolo 11 del regolamento medesimo SACPO ha una grandissima attenzione nei confronti dei passeggeri a ridotta mobilità si pensi che in un anno vengono assistite ed accompagnate 60.000 persone con una media di circa 160 persone ogni giorno tra arrivi e partenze questo è un lavoro che ci si porta da diversi anni e che ha portato benefici straordinari di attenzione alle difficoltà, alle fragilità a volte si tratta anche di difficoltà transitorie come persone che hanno avuto magari un incidente per un determinato periodo della propria vita si pensi anche che SACPO investirà nei prossimi anni significativi interventi negli ascensori che condurranno direttamente ai gate e che favoriranno l'accesso di queste persone L'aeroporto di Bergamo è uno dei principali aeroporti nazionali che sia adeguato all'applicazione del regolamento cioè 11.07.2006 in materia di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità dalla data di applicazione del regolamento sono state adottate tutte le iniziative necessarie sia da un punto di vista infrastrutturale e logistico che in termini di formazione del personale per garantire la piena applicazione al regolamento in particolare sono stati adeguati i banchi check-in sono stati rese accessibili le toilette i servizi di ristorazione sono stati predisposti ai punti di chiamata in prossimità degli accessi all'aerostazione sono stati ampliati i parcheggi destinati ai passeggeri a ridotta mobilità ed è stata avviata la formazione del personale preposto a trattare con i passeggeri a ridotta mobilità in più nel 2016 è stato l'aeroporto di Bergamo aderito ad un progetto lanciato da ENAC volto a garantire assistenza e a consentire l'esperienza del viaggio aereo ad una particolare tipologia di passeggeri affetti da disabilità che sono in particolare i passeggeri affetti dello spettro autistico al fine di consentire anche a questi passeggeri di intraprendere l'esperienza del viaggio aereo Ci occupiamo adesso di turismo c'è soddisfazione in Valle di Scalve per la prima parte della stagione invernale sentiamo Il Schilpario ha vissuto un periodo delle feste di natalizie molto buono abbiamo avuto un afflusso di turisti superiore secondo me agli altri anni abbiamo anche dato mostra di capacità organizzativa con la nostra associazione turistica per l'organizzazione di eventi che sono stati di supporto importante ai turisti che abbiamo avuto a Schilpario abbiamo organizzato degli eventi gradevoli per il Capodanno come la festa in piazza dopo la mezzanotte per brindare tutti assieme abbiamo fatto la fiaccolata per il paese con tutti i bambini che hanno fatto il giro del paese di tutte le strade con le fiaccole la fiaccolata con gli sci abbiamo illuminato con un faro messo a disposizione della protezione civile tutta la facciata del pizzo camino che è stato un evento nuovo e interessante insomma la gente si è fermata a guardare a vedere sotto un altro aspetto la montagna di notte con questo faro che metteva in evidenza tutte le facce della roccia di tutte le peculiarità della bellezza di questo massiccio in roccia dolomite quindi c'è soddisfazione c'è soddisfazione abbiamo visto che la gente gradiva non è mancata di venirci a manifestare la soddisfazione per quanto fatto purtroppo la neve è scarseggiata come gli altri anni la nostra infrastruttura sportiva più importante che è la pista di Scinordico purtroppo è stata aperta solo alla fine per un breve tratto forse troppo breve però abbiamo sopperito bene con una pista in quota dove i ragazzi dello Sciclub già da qualche settimana andavano a allenarsi prima delle feste e poi è stata aperta anche ai turisti c'era da fare un piccolo percorso a piedi però diciamo che era una bella pista in quota con anche un bel panorama i turisti hanno gradito questa iniziativa vedremo di ripeterla e magari migliorarla anche per il futuro e per il resto poi le passeggiate con gli sci alpinismo con gli sci d'alpinismo nel passo al passo dei campelli nella conca dei campelli che è sempre una meta bellissima molto ambita ha portato un sacco di gente 40 anni di concerti in un museo è l'idea di Gigi Bresciani che con la sua Geo Music ha portato grandi nomi della musica internazionale in Bergamasca e non solo per partire però il progetto ha bisogno di un ente pubblico o di un'associazione che lo sostenga sentiamo ci troviamo a Gandino in casa di Gigi Bresciani organizzatore di concerti tutti lo conoscono tutti ricordano il nome di Geo Music associato a tanti eventi in Bergamasca e anche in Val Seriana in tutti questi anni hai raccolto una mona incredibile di materiale tutto catalogato e adesso c'è un'idea che stai portando avanti nei 40 anni di concerti tutti documentati dal punto di vista audio, video e rassegne stampe un immenso materiale è un patrimonio vero e proprio che bisognerebbe conservare l'idea è quella di costituire sono stati schedati l'idea è quella di costituire un museo o un archivio di valle quindi un museo della musica in Valle Seriana un museo della musica in Valle Seriana un punto di riferimento per poter esplorare quanto è stato fatto quanto, ripeto ancora, tutto documentato e scoprire tante musiche per chi non ha avuto la possibilità di venire ai concerti quindi è rivolto soprattutto ad un pubblico giovane per quelli della nostra età è un tuffo nel passato con tanti ricordi e sottolineo che i protagonisti di tanti eventi sono di carattere assolutamente internazionale sono stati e lo sono ancora purtroppo alcuni se ne sono andati le ricordiamo con molto piacere e siamo fieri di averli avuti ospiti Facciamo qualche nome Beh, tra quelli più importanti che ancora sono disponibili per i nostri eventi ne ricordiamo uno per tutti Evia tra quelli che se ne sono andati un grande chitarrista di folk inglese John Rambo e forse il più grande cantatore americano un certo Jack Hardy è stato il nostro primo concerto all'Effe ai circoli riuniti teatro che ormai non esiste più in quel di l'Effe teatro, sala cinematografica un grandissimo che abitava a New York organizzava eventi in casa sua con artisti giovanissimi Mi permetto poi di aggiungere Alan Stivel Susan Vega Igetrotal davvero tanti concerti in questi anni una stima a quanti ne hai organizzati? Difficile dirlo un articolo un articolo di giornale dice 5000 voglio solo ricordare che abbiamo giocato un po' tutta l'Italia ma ha fatto dei concerti anche all'estero È diventato più difficile adesso proporre concerti? Beh, pare che adesso l'interesse da parte di un certo pubblico sia un po' sceamato per le cose un po' più particolari Il campo d'azione nostro è sempre stato la musica etnica con particolare riferimento alla musica celtica e con divagazioni in un certo jazz di avanguardia siamo stati i primi a portare non solo in Bergamasca ma in Italia gruppi dall'Ungheria dalla Bulgaria Un concerto recente organizzato da te Giorgio Cordini Aleffe per la Buona Novella ha attirato tantissime persone Beh, ci sono situazioni situazioni e progetti che ancora funzionano molto bene quelli ad esempio intorno alla figura di De André ce ne sono moltissimi ma mi pregio di dire che pochi sono veramente quelli di una certa fattura funzionano molto bene hanno grandi riscontri di pubblico e gli artisti che ne sono protagonisti ne cito due in particolare Giorgio Cordini e in un altro progetto Vittorio De Scalzi il chitarrista e voci dei New Trolls riescono a dare ancora grandissime emozioni Vorrei tornare all'idea del Museo della Musica a che punto è questo progetto? Allora è stata fatta una domani è stato presentato il progetto in Regione e abbiamo fatto un ulteriore step per cui ora deve essere presentato ufficialmente da un ente pubblico siamo alla ricerca di un ente pubblico disponibile o di un'associazione formalmente riconosciuta per fare un museo di valle Io so che proprio in questi giorni la notizia di una casa della Musica Nembro sono stati avviati i contatti potrebbe essere una sede ideale anche se vivendo a Gandino mi piacerebbe molto forse a Gandino o a Val Gandino ripeto un museo di valle non un museo di paese questo è molto importante perché potrebbe essere l'unico in Nord Italia e richiamare sicuramente molti appassionati come normalmente vengono anche i nostri concerti e da molto lontano E ci fermiamo adesso per una pausa torniamo tra poco con la parte finale E siamo tornati in onda con il nostro telegiornale ci avviciniamo alla conclusione con la nostra pagina degli auguri questa sera dedicata alla signora Michela Trivella Fornoni di Gromo San Marino che oggi compie 96 anni figlia, genero, sorella, fratello, nipoti e tutti i parenti le augurano buon compleanno oltre a salute e serenità e tanti auguri anche da parte di Antenna 2 E adesso i programmi sulla nostra emittente iniziamo dal canale principale questa sera alle 20.25 promo serio e 20 alle 20.30 un nuovo appuntamento con il settimanale di informazione Target alle 21.55 Instant Future alle 22.10 Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del TG il canale News 218 propone alle 21.30 il telegiornale alle 22.10 l'anteprima Target questa sera un servizio dedicato al concerto anzi ai tre concerti dei Sushi Cornucopia a Clusone dove hanno proposto per intero l'album dei Pink Floyd The Wall concerti che hanno avuto molto successo oltre mille spettatori il canale sportivo 628 alle 20.30 il programma di motori Paddock alle 22.30 la partita di calcio in replica Pradanunghese Gavarnese e adesso l'Almanacco domani è sabato 11.10 il sole sorge alle 7.55 tramonta alle 17.01 la luna è piena sorge alle 17.42 tramonta alle 9.25 di domenica la chiesa ricorta Santigino Papa e chiudiamo con le previsioni del tempo domani su Alpi e Prealpi Lombardi cielo in prevalenza sereno temperature in aumento ed è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito